Ciao a tutti ragazzi, io sono XGenesis e sono qui in compagnia di TheJuman, salve a tutti, e siamo sul canale Year of Gaming, un canale che abbiamo aperto insieme, giusto per fare dei video in cui ci divertiamo, in cui speriamo di notte di farvi divertire, siamo qui su Overwatch. E c'è gente che distrugge le macchinette, ovvio perché è bello, ma che cazzo sta facendo? Io ho scelto come personaggio Genji, mezz'ora che spara alle macchinette così rando, vedi che si diverte con poco, e vabbè, e vabbè, TheGustibus, un cecchino, cazzo mi ha preso in pieno, c'è un motorino, C'è un motorino, c'è un motorino con delle, non sono ruote, sono cose tipo gravitazionali, sono un ninja, mi posso arrampicare ovunque, vedi, vabbè, vieni qua, bastardo, ok, ha eliminato mina drum, ah, elimino praticamente solo le mine io, cioè, sono una mazzadrampola, sono una cazzamagia. Cazzarola, che minchia è successo? Ah, questa è l'abilità di Anzo. Sì, ma manco sono spuntato, tipo, dal, ecco, mi ha afferrato al volo. Ah, mi ha afferrato al volo uno e l'altro mi ha afferrato. Minchia, da dietro. Minchia. Miscio. Sanne. Stordito, sono morto, manazza. Cazzo. E quindi prendiamo Anzo con l'arco, che ho nel mirino, bastardi. No, non è vero, non è vero. Non è vero, però, vuanti, poi. però i spazi così stretti e chiusi non sono però ideale per questo tipo di personaggio che personaggio hai? Anzo, qual'è Anzo? Anzo il tizio con l'arco giapponese, ah è quello che fa non ho fatto neanche una kill, due kill e tre morti, ma che stasera, stai la vovo quasi ucciso, spunta, spunta che ti distruggo, stronzo guarda dove, ah ma io posso procurare questa, ma stai facendo tipo il camper, guarda che ti aiuta, da lontano guarda, stai facendo il camper, mannaggia, guarda, madonna, guarda, hai eliminato come non so da lontano, da lontano, da lontano, da lontano, madonna, la mira, da dove, madonna, c'è la cecchina, quella Widowmaker, che è troppo 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 forte, io provo fara, al tag, manco 10 secondi tanto, quindi, l'abbiamo perso, ok, ok, rischiamo di perdere, l'abbiamo perso, ma se mi l'attacco in difesa, come ne l'attacca, non vedete se ti l'attacca, no, l'abbiamo perso come gli stronti, madonna, ti l'ho fatto proprio cagare, mamma mia, vabbè, tipo il Lester tra l'anno prossimo il camper, wow, dobbiamo preparare l'oggi, vabbè, io ti provo con un gamble, eh, vabbè, oh, c'ho un anzo verde, cazzo però, no, eh, fratello, vieni qua, io, vado a farlo, io l'ho pesato, perché sono così gatto, cioè, io ho la mano all'altezza del tuo culo, eh, vabbè, no, sul serio, ho la mano all'altezza del tuo culo, è cominciata la partita, andiamo qua, già vedo due nemici, guardali, oh, che cazzo è la sopa, che c'è, tipo il festival night, che c'è, ho eliminato il drone sentinelli, sentinelli, madonna, c'è un bastion selvatico, c'è un po' di cecchinaggio, oh, no, scherzavo, mi sono, oh, che palle, niente, in realtà avrei potuto usare l'attacco fisico, ma c'è una vespa, una vespa, te l'ho detto che c'è una vespa, oh, futurissimo, ma che cazzo è questo? vabbè che sonso che si può spostare senza prendere danno, dai, com'ha fatto? palle, la mia persona, ma non lo so usare Widowmaker, basta, H, andiamo l'ignoranza, chi è il più ignorante di tutti, questo, Rodog, su uno l'apocalisse, questo cazzo, ok, io non ho mai usato questo personaggio, quindi vediamo com'è, oh, che figo, hai rampito, fermi il carno, hanno fatto partire, corri, corri, ho letto fermo il cancro, giuman per il sociale, overwatch, oh, hello, ma è una vita che dice, adesso non potete decisione, va bene, non lo so usare neanche questo, basta, ho dovuto aver fatto quello con la mitra, che cazzo, che è bellissimo, se dovessi trovare un difetto in questo gioco, cioè, perché il difetto è una cosa che a me non piace tantissimo, è che la mappa è un po' troppo dispersiva, cioè da qua che tu arrivi al punto di difesa, vabbè, ecco quello che è, sperate che, ma non è team fortress, devo fare, ok, proteggerò gli innocenti, per dire, sono altri personaggi, per esempio, è un will protei dell'innocenze, will protei, però, e vabbè, dai, è anche o meno così, ma perché questo Exxon è, guarda, hai eliminato Exxon, perché mi hai arrivato un'ora dopo e hai eliminato Exxon? che personaggio posso usare, va? ti giuro, l'ho trovati pochissimo, allora, no, io ho poi geniata, sembra tipo geniata, sì, è la stessa cosa che mi piace da me, quello che non ci assuoniamo, ma un altro tipo di... ok, c'è Bastion, hello Bastion! Ho uno di vita, ho uno di te, sono morto! Abbiamo vinto, abbiamo perso? Abbiamo perso, wow, sono troppo forti! Sicuramente abbiamo vinto! Maffanckill! Guarda che siamo scarsi, mamma mia! Va bene, quindi direi che per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video, se il video vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un mi piace, o a... e non giocate come noi! Esatto, decisamente! Bisogna lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, se la nostra tipologia di video vi piace! Qui da Genesis è tutto! E da DeGimane è tutto! Ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!